Mantenetevi in forma. Gli sport club Missy Sporti e Mamazzone, l'associazione altoatesina per la ricerca contro il tumore al seno, lanciano la campagna di sensibilizzazione alla diagnosi precoce. Due partner d'eccezione uniti da un progetto unico nel suo genere che ama il connubio tra la cultura del movimento e quella della prevenzione. Complici, un opuscolo, una serie di conferenze, una campagna di donazione a favore di Mamazzone. Noi come Mamazzone parliamo alle donne, anche Missy Sporti, sono palestre che praticamente hanno soci e solo donne e abbiamo come priorità di diffondere proprio la cultura della prevenzione perché più in tempo si prende il tumore, più buone sono le probabilità di guarigione. In Alto Adige 80 persone più o meno muoiono di tumore al seno. Il libretto informativo è stato studiato per portare un po' di attività fisica nella vita quotidiana di ogni donna, con 13 semplici esercizi che verranno pubblicati tra marzo e fine maggio sul giornale ZET. Testimonial d'eccezione è l'attuale Miss Alto Adige, Michaela Moser. E per restare in forma e soprattutto in salute bastano poche regole, un po' di costanza come ha spiegato la responsabile di Mamazzone, Erika Lanner. Come regole innanzitutto uno stile di vita sano, che vuol dire dieta, la nostra cara dieta mediterranea, e poi un esercizio fisico moderato, non c'è bisogno di scalare montagne, basta scalare, fare le scale ogni giorno, oppure portare il cane a spasso, oppure andare a fare la spesa a piedi, basta queste piccole cose per ridurre notevolmente il rischio di ammalarsi. Un'altra alternativa, se uno preferisce stare in compagnia, stare in gruppo, allora si va nelle palestre ai Missi Sporti, ormai ce ne sono cinque qua in Alto Adige. Relatori delle conferenze che si terranno nelle cinque sedi di Missi Sporti dell'Alto Adige, i medici e i primari dei reparti di ginecologia di Innsbruck, Merano e Bressanone.